Come probabilmente molti di voi sapranno, secondo la relatività generale, i fenomeni gravitazionali, quindi i fenomeni legati alla cosiddetta interazione gravitazionale, sono spiegabili supponendo che la struttura dello spazio-tempo in cui noi viviamo venga distorta e curvata dalla presenza di massa e di energia. Questa curvatura dello spazio-tempo agisce anche sui raggi luminosi. Lo vediamo molto bene, ad esempio, attraverso il cosiddetto effetto di lente gravitazionale. Una persona però potrebbe chiedersi se sia vero anche il viceversa, cioè se la luce sia in grado di produrre gravità, oltre a subire i suoi effetti. Cerchiamo di capirlo insieme. Bentornati su Random Physics. Quando dico che, secondo la relatività generale, la presenza di massa e di energia sono in grado di curvare lo spazio-tempo e di conseguenza di produrre gravità, mi sto riferendo al fatto che, secondo la relatività ristretta, quindi quello che viene prima della relatività generale, cioè la teoria fisica che spiega il nostro universo in assenza di gravità, la massa e l'energia sono equivalenti, nel senso che noi possiamo sempre trasformare la massa in energia e viceversa. E il modo in cui la massa si possa trasformare in energia è espresso dalla famosissima equazione di Einstein, E uguale m per c al quadrato. In realtà si tratta di un'equazione non completa, nel senso che noi stiamo supponendo che la massa, che poi è in grado di produrre l'energia, sia ferma. Se la massa è in movimento, quindi se quella massa possiede anche una cosiddetta quantità di moto, la formula va corretta e diventa E alla seconda uguale m alla seconda per c alla quarta più p alla seconda per c alla seconda, dove p è proprio la quantità di moto di quell'oggetto che possiede la massa m. Quindi a produrre la gravità sono sia la massa sia l'energia, dipende che cosa sia presente in quel momento. Possono esserci anche entrambe. Quindi una grossissima novità della teoria della relatività generale rispetto alla teoria della gravitazione classica di Newton è che anche la semplice energia può produrre gravità. Non è necessario che sia presente una massa. Vi ricordo come al solito che potete sostenere questo mio progetto di divulgazione e comunicazione della fisica andando a mettere un bel mi piace a questo video, oppure attraverso il link che trovate in descrizione potete andare ad acquistare un po' di merchandise, come ad esempio questa maglietta. Anche in questo modo darete un grosso sostegno a questo mio progetto. Quando pensiamo alla propagazione della luce in relazione alla teoria della relatività generale, noi pensiamo quasi sempre all'effetto di lente gravitazionale. Cioè pensiamo al fatto che nel nostro universo esistono delle situazioni molto interessanti in cui i raggi luminosi che arrivano ad esempio da corpi celesti lontani verso di noi vengono deviati dalla presenza di masse che si trovano tra noi e quegli oggetti che emettono quei raggi luminosi. Quindi quando pensiamo alla luce che si muove in un campo gravitazionale pensiamo quasi sempre solo al fatto che la luce sente questa interazione gravitazionale. E già questo è un fatto molto interessante che non era presente nella gravitazione classica di Newton. E ciò ci permette anche di interpretare quelle bellissime immagini di galassie lontane che vengono distorte dalla presenza di altri oggetti dotati di massa tra noi e quelle galassie lontane. Una cosa però che viene spesso sottovalutata è che la luce trasporta energia. Cioè la luce fondamentalmente è un'onda elettromagnetica e le onde elettromagnetiche sono oscillazioni di un campo elettromagnetico e qualsiasi campo elettromagnetico contiene dell'energia. Cioè un volume permeato di un campo elettromagnetico è un volume che contiene di fatto energia. Energia che non è più presente sotto forma di massa ma come abbiamo detto prima l'energia così come la massa è in grado di produrre gravità cioè di produrre un vero e proprio campo gravitazionale. Quindi per produrre un campo gravitazionale non dobbiamo avere per forza una massa, un pianeta, una stella e così via ma possiamo avere anche della semplice energia che si trova sotto altre forme. In particolare possiamo avere un'energia elettromagnetica quella di cui ho parlato poco fa. Un campo elettromagnetico quindi per il solo fatto di contenere un'energia è in grado anche di produrre gravità. L'ovvia conseguenza quindi è che anche un raggio luminoso può produrre un campo gravitazionale, anzi lo farà sempre. Ogni volta che voi vedete della luce sappiate che quella luce sta producendo in quel momento un campo gravitazionale anche se ovviamente la luce che noi vediamo ogni giorno nella nostra quotidianità produce un campo gravitazionale debolissimo, assolutamente trascurabile, così come in realtà anche le masse che ci circondano, a meno che non parliamo proprio di masse di grossi pezzi di crosta terrestre. La cosa interessante però è che noi possiamo svolgere dei calcoli e stimare circa come sia fatto il campo gravitazionale prodotto da un raggio luminoso o in generale da un'onda elettromagnetica. Questa cosa è stata fatta ad esempio all'interno di questo articolo che vi mostro a schermo in cui è stato calcolato il campo gravitazionale prodotto da due impulsi laser che viaggiano in versi opposti. Più in generale bisogna sempre ricordarsi che, secondo la relatività generale, qualsiasi forma di energia è in grado di produrre gravità, non solo la massa. Quindi noi concludiamo che ci sono tanti fenomeni nel nostro universo in cui noi dobbiamo tener conto anche dell'energia quando vogliamo descrivere il campo gravitazionale. Se pensiamo al cosiddetto collasso gravitazionale, cioè il destino che è riservato ad alcune stelle molto massicce, dobbiamo ricordarci che questo collasso avviene non solo perché la stella ha una concentrazione di massa tale per cui a un certo punto inizia a comprimersi quando le reazioni nucleari non sono più in grado di controbattere questa attrazione gravitazionale, ma in più dobbiamo aggiungere anche il fatto che si generano delle pressioni all'interno di quella stella che sta collassando e tali pressioni costituiscono una nuova forma di energia. Quindi il collasso gravitazionale va avanti, oltre un certo punto, proprio perché man mano che la stella collassa aumenta la pressione. La pressione è una forma di energia, detta in modo semplice, e quindi questa energia sempre più alta produce una gravità sempre più alta che permette alla fine alla stella di collassare indefinitamente. Infatti sopra un certo valore di massa la stella poi collassa fino a diventare un cosiddetto buco nero. Con questo discorso sulla possibilità di produrre un campo gravitazionale grazie a una sorgente che sia pura energia senza presenza di massa, spero di aver ampliato un po' la vostra visione della teoria della relatività generale. Questo fatto è spesso appunto trascurato a livello così divulgativo, colloquiale, ma in realtà è cruciale il contributo che l'energia apporta ai vari campi gravitazionali. Quindi oggi ho deciso di girare questo video un po' più breve semplicemente per aggiungere questo piccolo tassello alla vostra conoscenza di questa teoria che non finirà mai di stupirci, avete visto che gli ultimi video erano quasi tutti dedicati alla relatività generale e ce ne saranno molti altri. Questo è il penultimo video prima di luglio e agosto. Prossimo sabato troverete un video molto più lungo e impegnativo anche da guardare rispetto a questo. Successivamente poi durante i mesi di luglio e agosto usciranno dei video più brevi e più leggeri e soprattutto cambierà l'orario di uscita dei video che verrà anticipato alla mattina. Quindi parliamo sempre del sabato ma i video usciranno la mattina intorno alle 7 e 30 così potrete guardarveli tranquillamente con il fresco della mattina e poi potrete dedicarvi ad altre attività. Io vi saluto e come al solito vi ricordo di seguirmi anche su Instagram.